Allora, rinfrascati dall'intervallo, ci tuffiamo all'interno del modello, che come dicevamo è una classe che deve prioritariamente gestire questo elenco di esami. Gestire è una bella parola, ma non vuol dire niente da sola. Dobbiamo andare a recuperare le funzionalità previste per il programma per capire che tipo di gestione devo fare. Allora, c'eravamo dati come compito di fermarci i primi due punti, adesso capite perché, ma perché fa 4 punti e ne fa solo 2, perché per andare nel dettaglio ci vuole il suo tempo. Cosa deve fare il programma? Il modello deve permettere all'interfaccia utente, che poi costruirò, di inserire i dati di nuovo esame e ricercare un esame inserito. Quindi per ora, diciamo, queste due metodi. Quindi io avrò un modello che offre al livello più alto ai suoi utilizzatori almeno queste due funzionalità. Poi ne aggiungeremo altre, andiamo avanti sempre in modo incrementale. Allora, questo è facile, relativamente, se partiamo da queste due. Poi dopo, più avanti, ci sarà il discorso della data, della cancellazione, ma la possiamo aggiungere in una versione successiva. Allora, se io penso di dover realizzare queste funzionalità, dicevamo, penso alle funzioni che il programma deve fare, non penso ancora a come sarà strutturata l'interfaccia grafica. Cerco di implementare il modello ragionando al livello più alto possibile. Cioè, questi metodi della classe model dovranno avere come parametri il più possibile oggetti completi e non stringuzze e interi. Cioè, se io devo avere un metodo, inserisci un nuovo corso, questo metodo non riceve come parametro il nome, il tipo, il codice, eccetera, ma riceve direttamente un oggetto corso. L'interfaccia col modello deve essere il più possibile, diciamo ad alto livello, basata sugli oggetti che fanno parte del modello, stesso del package modello. Perché? Ma perché se un domani voglio aggiungere un campo importante all'oggetto corso, non devo andare a modificare 12.000 metodi in cui ho passato uno per uno tra i singoli valori. Quindi noi cerchieriamo di mantenere confinate il più possibile, schiacciate verso il basso le variabili semplici, le stringhe, gli interi, le date, e incapsulare tutti in oggetti e cercare di lavorare il più possibile gli oggetti. Diamo l'intelligenza che serve agli oggetti in modo da poterli usare e sfruttare anche i livelli più alti, come principio. Adesso vediamo in pratica come lo applichiamo. Allora, dicevamo, il modello essenzialmente offre la possibilità di gestire una lista di esami, java.util.list e avrà tre metodi principali, il costruttore ce lo deve avere e poi i metodi che mi servono per fare le operazioni che ho previsto su questa lista. E le operazioni che ho previsto sono aggiungine uno e ricercane uno. Allora, prima di tutto costruttore, public model, nessun parametro in questo caso perché il modello quando parte costruirà una lista vuota e quindi non bisogna passare di nulla, è capace di costruirla da solo. Quindi vuol dire che quando creo il modello lui si inizializza con una lista vuota. una lista che contiene zero elementi. Se non facessi questo, esami sarebbe null, è un riferimento null, non è un riferimento a una lista che esiste ma ha zero elementi, sono due cose diverse. Al momento non serve altro, poi più avanti servirà altro nel costruttore perché dice occorre visualizzare in ogni momento la media degli esami, allora da qualche parte il modello dovrà anche tener conto della media degli esami, aggiornarla e quindi inizializzarla. Però per il momento ho una variabile sola che per ora mi sia venuta in mente, non ho detto che sia l'unica per sempre e quindi inizializzo quella. Se vogliamo il compito vero del costruttore è quello di lasciare l'oggetto in uno stato coerente. E lo stato di un oggetto che cos'è? E' l'insieme delle sue proprietà, modello, costruttore. Poi cosa devo fare? Aggiungere un nuovo corso e ricercarlo. Aggiungi un nuovo corso, public, void, ad corso. E cosa riceve l'ad corso? Beh un corso, scusate, ad esame, l'abbiamo chiamato esame quindi. Ad esame e riceve un esame. Quindi, aggiunge un nuovo esame all'elenco degli esami presenti. La versione più becera di questo metodo cosa deve fare? Beh semplicemente delegare alla lista. O modello tu che sai tutto, aggiungi questo esame. L'esame dice va bene, o lista, tu che sai una lista, appendi questo oggetto. Esami.ad.de Io non ti espongo la lista. Io modello, sono geloso della mia lista. Non ti do un get esami in modo che tu controller possa fare ciò che vuoi con la mia lista. La lista è mia e ti lascio fare sulla mia lista solo le operazioni che voglio io. Quindi le incapsulo e delego. E' un'altra cosa? Io non voglio che tu controller in un attimo di panico mi faccia esami.clear e me li cancelli tutti. Se voglio permettertelo ti offrirò io un metodo clear che poi farà il clear dentro la lista. Ma la lista la gestisco io, è mia. Perché poi magari devo gestire una sua coerenza interna. Ad esempio, io vi ho detto che questo è un metodo becero perché non fa l'unico controllo che deve fare. che l'esame non ci sia già. Devo inserire un esame, all'esempio di presenti, verificando che non ci sia già. Allora, prima di fare add, devo essere sicuro che quell'esame E non sia ancora presente nella lista. Quindi verificare che la lista non contenga quell'oggetto. not contents. Leggiamo un po' cosa dice la documentazione di contents. Contents ritorna vero se questa lista contiene l'elemento specificato. Più in dettaglio, ritorna vero se e solo se la lista contiene almeno un elemento che, se non nullo, o .equals di E. Allora, questo è il motivo per cui, quando abbiamo fatto l'oggetto esame, ci siamo preoccupati del metodo equals. Perché poi, quando chiamo contents sulla lista di esame, il metodo contents usa esame.equals. Per sapere se l'esame c'è già oppure no. Abituiamoci, io spendo anche del tempo apposta, a leggere la documentazione. E si scoprono tante cose. If not esami contains E, allora esami.add. Altrimenti non lo devo aggiungere, perché c'è già. Superato o non superato non mi importa, ma c'è già, quindi non lo devo aggiungere. E cosa devo fare? Allora, se qualcuno mi chiede di aggiungere un elemento che c'è già, è un errore, un malfunzionamento, una failure, diciamo, non so come parlo in italiano, di questo metodo. Allora, non posso farlo, significa che lo posso implementare in tre modi. Uno è così, non lo faccio e sto zitto. Silent failure. Cioè un errore è gestito in modo silenzioso. Due, anziché ritornare un void, posso ritornare un boolean? E quindi, se va bene, ritorno true, se va male, ritorno false. Quindi, chi chiama questo metodo può sapere, se gli interessa, se l'operazione è andata a buon fine oppure no. Quindi è una failure soft, nel senso che va bene, lo gestisco e ti informo del fatto che non sono riuscito. La terza alternativa è sputare un'eccezione. In questo caso farei una true, new, illegal, argument, exception, per dire, guarda che l'esame che mi è passato non va bene. Ma quale delle tre fate, sceglietelo voi, scegliete magari nella vostra applicazione un modo coerente di gestire le anomalie o gli errori. Il silent failure non è mai bello, perché l'utente ti ha inserito, inserisci e l'utente crede di aver inserito, in realtà non l'ha inserito. All'utente devi farla arrivare l'informazione che non hai potuto inserire e c'era un motivo per non poterla inserire. E come faccio a far arrivare l'informazione all'utente se il modello che deve fare l'operazione non me lo dice? Quindi come minimo le operazioni che possono fallire devono in qualche modo segnalarlo. O con un valore di ritorno, un oggetto che sia nullo oppure non nullo, oppure un booleano che sia vero o falso, dipende probabilmente dall'assignatura del metodo, e si presuppone che il chiamante vada a controllare questo valore. Se invece non mi fido del chiamante, sparo un'eccezione, così se lui non la controlla il programma si blocca. Tengo pure contro nel gestire le anomalie in un modo o nell'altro, quindi non vi so dare una linea guida che vada bene sempre. Io adesso lo farai così. È un tentativo di inserimento che se non va a buon fine viene segnalato. E quindi nel caso in cui non contiene l'esame E, dico va bene, altrimenti ritorna falso, cioè non è andato a buon fine. Quindi aggiungo ancora return true se ha inserito false se esisteva già e quindi non l'ha potuto inserire. Qui non è di nuovo beceramente esami.ad, ma gli metto il contesto che mantenga la validità del dato, la coerenza del dato. Devo avere dei metodi che quando li chiamo, li chiamo su un oggetto che è internamente coerente, quindi i suoi dati sono coerenti, e dopo la chiamata del metodo l'oggetto deve essere ancora sempre coerente. Quindi evito di fare cose che sarebbero sbagliate. E basta. L'add esame è fatto tutto ciò che deve fare. L'altro metodo è cerca esame, trova esame. Quindi se la metodo public, esame, perché mi restituisce un esame che trova. E il testo diceva, lo ricerca in base all'altro, andiamo a rivedere il testo. Ricercarlo, lo siamo inserito, ricercandolo per codice. Quindi questo metodo deve ricevere come parametro un codice, che a questo punto è una stringa, e restituirmi un oggetto. L'oggetto codice che stava dentro. Se c'è, dentro la lista. Come posso fare a trovare un oggetto all'interno di una lista? Allora, io ho due modi. O mi vado a scandire la lista una riga per volta. E quindi faccio un ciclo for, sui elementi della lista. Oppure posso prendere, ci sono due metodi della classe lista che fanno le ricerche. Dicevamo prima, indexOf e contains. Quindi potrei fare un indexOf di codice. Potrei dire, dis.esami.indexOf codice. No. Perché? Perché indexOf si aspetta un oggetto del tipo della lista. Quindi qui dovremmo metterci non codice che è una stringa, ma un oggetto di tipo esame. Perché non sa rabbia. Perché probabilmente non hai generici questo. Però lui, quello che fa dentro, c'è scritto qua, fa l'oggetto equals getDi. Allora, getDi sulla lista mi istituisce un esame. L'oggetto è una stringa. Quindi non c'è speranza che la stringa sia equals a un oggetto esame. Allora, questo non lo posso usare. Sarebbe tanto comodo perché in una riga di codici me la caverei. Ma un modo c'è. È quello di creare un esame finto che abbia quel codice lì. A questo punto ho un oggetto esame, il cui campo codice, che è quello su cui lavora equals, è giusto? E mi sono risolto il problema. Niente descrizione, anzi, l'editura posso anche mettere null. Sia nella descrizione che nel docente. Le prime volte sembra che puzzi questo, ma... Cioè, crea un oggetto dello stesso tipo di quello che sto cercando. Non sarà mai identico. Non sarà mai nella stessa allocazione di memoria. Ma avrà, risponderà in modo positivo all'equals. Perché ha lo stesso codice. E allora, a questo punto, posso usare un metodo di livello più alto, che è l'index of, che è già implementato dalla classe lista. Che dentro l'index of farà il suo ciclo. Ciclo for. Però se lo fa lui, e non lo faccio io, innanzitutto ho scritto una riga di codice, anziché 4, e quindi ho il 25% di probabilità in meno di fare errori. Perché ho scritto meno righe. E magari sarà anche più efficiente, come l'ha implementato, chi ha implementato la lista, piuttosto che come lo implemento io. Quindi in qualche modo, questo è un pochino al limite, però l'invito sempre è cercate di usare il più possibile oggetti di alto livello e metodi di alto livello sugli oggetti di alto livello. Se c'è già qualche cosa di definito, usiamolo. Se cominciamo a fare cicli annidati che elaborano liste, ci perdiamo lì dentro. Poi a volte non c'è alternativa e lo si fa, perché bisogna. Però quando si può evitare, proviamoci. Allora, a questo punto l'index of mi restituisce un intero, che è la posizione dell'elemento. Giusto? Oppure meno 1 se l'elemento non viene trovato. Quindi in questo caso io dovrò restituire, al mio chiamante devo restituire un oggetto, esame. E quindi se la posizione restituita è meno 1, allora l'oggetto non è stato trovato. Ritornerò un null. Altrimenti, ritornerò l'oggetto trovato. Come? Esami. Punto get di pos. Purtroppo l'index of è stupido, mi restituisce un intero anziché restituirmi già l'oggetto. Non c'è un metodo che si scheggia l'oggetto, quindi devo farci un get sopra. E' antipatico, perché vabbè, in un RList un get ha tempo costante, ma in una LinkedList get di mille, significa che lui deve scandirsi la lista mille volte. Però non conosciamo ancora strutture date più efficienti per il momento. Allora, questo metodo è ricerca se esiste un esame con il codice specificato, se esiste lo restituisce, altrimenti restituisce null. Questo è il codice dell'esame da cercare. return, esame trovato, oppure null, se non è trovato. Allora, la domanda è, se io sono piccolo e non voglio fare questa if, e facessi direttamente get di pos con pos-1, cosa succede? La domanda è, allora andiamo a vedere se ce lo dice, la sua documentazione, se non ce lo dice proviamo. Allora, il metodo get di list, ritorno all'elemento index. Quindi la risposta è che se provo a fare get di un elemento che non esiste, e in particolare meno 1 non può esistere, avrò un'eccezione di questo tipo qua. Le due funzioni che doveva fare questo oggetto, se funzionano, sono implementate. E allora proviamo a fare un piccolo metodo di test, questa volta per esercitare il model. Quindi la classe test model, con il suo main, e gli facciamo creare model, m uguale new model. Quindi creiamo un modello e adesso giochiamo un pochino con quel modello. Quindi nella classe di test, faccio creare la classe modello, costruttore, aggiungo un corso, aggiungo due corsi, poi provo a cercare il primo e il secondo. Quindi posso fare m.add esame, il mio esame, copiamo quelli già, no? Lo so che mi odiate quando faccio copia e incolla. A questo punto io non ho un metodo per il momento, potrei aggiungerlo, una sorta di toostring o qualche cosa in cui il modello possa stampare i dati che contiene. Io da questa classe di test non posso andare a esaminare la lista esami perché non la vedo, è privata. Quindi in qualche modo devo accorgermi se lui ha fatto le cose bene, richiamando i suoi metodi. Quindi potrei fare system.out.println, di ad esempio model.trovaesame, e gli passo un codice, il primo. Poi posso provare a cercare il secondo. E poi posso provare a cercare un terzo ancora che magari non esiste. Mi aspetto che mi stampi ovviamente questo corso, quest'altro corso e poi mi scampi null. Se non stampa queste tre cose o se spara null pointer exception o qualcosa, cominciamo a debuggare per capire perché. Ok. Ok. Ok, fin qui funziona. C'è una funzionalità che non abbiamo testato, è il tentativo di inserire due volte lo stesso corso. Quindi io provavo a inserire due volte lo stesso corso, come prima cosa dovrei vedere che non succede nulla di male perché ho deciso di non generare un'eccezione. Se vuoi posso anche verificare che si sia accorto dell'anomalia, quindi dovrebbe stamparvi vero, vero, falso. Che il valore di ritorno di ad esame, ricordiamoci era scritto qua, true se l'ha inserito, false esisteva già. Il motivo per cui scrivo la documentazione è che io 30 secondi dopo già non mi ricordo più, ma almeno è lui che me lo ricorda. Quindi devo mettere ancora una chiusa tonda qua in fondo. Uno, due, tre. Quindi mi aspetto, true, true, false, trovo l'esame, trovo l'esame, null. E così è. C'è una cosa che è andata storta oggi e che non c'è stato nessun errore. Di solito non succede mai. Quindi non prendetelo per normalità. Di solito c'è sempre qualcosa che non va. Qui a questo punto abbiamo l'oggetto esame. L'oggetto modello, di cui abbiamo testato il funzionamento e ci convincono ragionavolmente, possiamo cominciare a costruire un'intera applicazione sopra. Capite che se adesso vogliamo costruire il libretto universitario, la linea di comando in cui inserisco gli esami della tastiera e lui mi li stampa sulla console, lo posso fare. Perché uso questo modello. Noi lo vogliamo invece fare come applicazione JavaFX. E allora ci andiamo a costruire la vista e il controller. Prima di andare avanti, commit. Tanto non lo pagate mica lo spazio su GitHub, no? Quindi model. Ok, pista. Prendiamo il libretto .fxml, apriamo SimBuilder e cerchiamo di riempire questa triste pagina grigia. Allora, cosa ci mettiamo? Ci mettiamo un titolo che si chiamerà una bella label che si chiama libretto universitario. magari la facciamo un pochino più grossa perché è il titolo, se no nessuno si accorge che sia un titolo. Anziché 12 la facciamo 18. Poi lo scriviamo anche giusto in italiano, universitario. e questo l'ho messo nel top. Nel centro dovrò mettere il succo della interfaccia, quindi quello che devo avere? Devo poter inserire e ricercare un corso. E poi magari posso avere una finestra di messaggi in cui stampo trovato o non trovato, stampo gli eventuali errori. Quindi mi immagino tre celle di testo per codice titolo e docente del corso un bottone in servizio e un bottone ricerca. Ok, allora. E poi sotto una casola di testo in cui poter stampare eventuali messaggi. Allora, ci posso mettere, io me la sono immaginata così. Divido in due, verticalmente. Nella parte sopra ci metto una griglia. GridPain non l'abbiamo mai usato. È una tabella. È un controllo a tabella. Quindi righe e colonne e ci serve per incolonnare gli elementi. Io vi faccio vedere come me la sono immaginata perché faccio prima farlo che a cercare di spiegarvelo a parole. Aggiungo le colonne. Allora io mi immaginavo una cosa di due righe. Facciamo così. in cui ci metto tre caselle di testo qua sotto e sopra ci metto la didascalia. Quindi avrò tre caselle di testo. TextField qua 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 e qua. Vedete che trascino all'interno della griglia e lui mi permette di posizionarlo in una determinata casella. Vedete a sinistra che è un grid pane 3x3. 3x3 è il numero di righe e colonne. Per aumentare e diminuire il numero di righe e colonne posso andare qua e fare il tasto destro, aggiungio, cancello la riga. e poi i singoli elementi 0, 1, 1, 1, 2, 1 sono le coordinate in cui vengono depositate dove righe e colonne sono numerate a partire da 0. Quindi questo qua è colonna 0, riga 1 colonna 1, riga 1 colonna 2, riga 1. A questo punto ci metto delle label sopra 1 2, 3 così l'utente poverino sa cosa deve scrivere questo è il codice questo è il titolo e questo è il docente poi gli do un pochino di spazio come sempre rimuovendo questi vincoli e lasciandogli usare lo spazio che vuole Diamo magari meno spazio al codice quindi lo riduco un po' non me lo fa fare l'aumento è il 10 perché non me lo fai allargare ecco il grip pain perché non mi fai accorciare questo non lo so eccola qua allora per ogni colonna a sua volta se seleziono le colonne 0, 1, 2 hanno anche loro le proprietà di layout e quindi eccola qua se li mettiamo il computed ovviamente lui è totalmente dinamico quindi magari appunto il codice era più corto il titolo è più lungo il docente è un pochino più corto del titolo ma questi sono dettagli una cosa di questo genere e a questo punto avrò dei bottoni un bottone cerca e un bottone inserisci il bottone inserisci lo posso mettere qui il bottone cerca lo posso mettere sotto il titolo magari così è più chiaro che sto cercando per titolo non è che sia al massimo la chiarezza però contentiamoci per oggi se dici magari mettiamo il lineato a destra così e poi dicevamo una textarea sotto tutto quindi la trascino nella vbox che va a finire sotto e questa è un'area in cui scriviamo i messaggi per avere un minimo di riscontro ok così ti piace? può essere accettabile? non è molto chiaro il ruolo di questi due bottoni solo noi che lo sappiamo ma se fosse un utente che lo vede non capisce bene cosa fa che inserisci inserisci l'intero corso e cerca cerca solo per codice magari troviamo soluzioni migliori ma non ci importa nel senso che adesso abbiamo una soluzione su cui possiamo cominciare a lavorare se poi dopo nell'fxml dovessimo spostare dei bottoni mettere dei divisori dei separatori eccetera lo possiamo fare in qualunque momento purché i miei attivi siano sempre gli stessi li posso riorganizzare come voglio il controller non lo sa visivamente dove sono messe le cose invece ci serve ovviamente dare allora salvare dare un nome agli elementi quindi due regole dare un nome fxd a tutti gli elementi da cui voglio devo accedere dal controller quindi tutti gli elementi in cui il controller deve poter leggere o scrivere due event handler quindi i metodi di gestione degli eventi a tutte le azioni dell'utente che voglio intercettare in questo caso sono i due bottoni almeno i due bottoni quindi rimettiamo le proprietà codice andiamo nel campo code sarà lo posso chiamare txt codice titolo lo chiamo txt titolo docente lo chiamo txt docente perché ho tanta fantasia stamattina e la casella di sotto la posso chiamare txt message perché ci vado a mettere i vari messaggi l'altra cosa che posso fare su questa area di test è rendere non modificabile dall'utente che l'utente può modificare gli altri tre campi ma questa sotto no giustamente perché è solamente una finestra dei messaggi e poi ho i due bottoni cerca inserisci a cui se voglio posso dare un nome ma in realtà nella maggior parte dei casi non serve dare il nome ai bottoni serve solamente se poi da codice volessi mobilitare o disabilitare quel bottone allora abbiamo bisogno di avere un nome ma se semplicemente vogliamo intercettare l'evento che genera non ci serve il nome ci serve semplicemente l'action handle cerca gestisci l'evento cerca e l'altro bottone inserisci button inserisci handle inserisci e abbiamo tutto ciò che ci serve andiamo a controllarlo qua sotto abbiamo txt code txt titolo txt docente button inserisci button cerca e text message sono i componenti che abbiamo definito quindi posso salvare e sulla base di questo crearmi controller copia tutto prendo il controller che per ora è vuoto in eclipse e ci incollo dentro avrà tutti i riferimenti txt codice docente eccetera e i due metodi vuoti handle ricerca handle inserisci se facciamo partire il main un po' che brutto va bene lo sistemiamo perché abbiamo ancora la finestra 400x400 che veniva creata nel main di default qui non ci posso scrivere e poi ho questi bottoni da premere quindi ho fatto la vista del nostro model view controller abbiamo prima fatto il model adesso abbiamo fatto la view e ci accingiamo a costruire il controller fatemi subito togliere questi 400 che sono brutti in modo da avere la finestra di dimensioni esatto adatte ridimensionabili e adesso dobbiamo lavorare all'interno di questi due metodi il controller dov'è all'interno di questi due metodi cosa dovrà fare qui intercetta una richiesta dell'utente l'utente ha premuto partiamo da inserisci perché si fa prima quello l'utente ha premuto il tasto inserisci cosa devo fare devo prima di tutto verificare se la richiesta è lecita è legittima l'utente ha scritto inserisci ma lui ha messo i dati che devo inserire ha messo il codice il titolo il docente quindi faccio i controlli se i dati sono validi quindi recupero i dati dall'interfaccia vediamoci la traccia di che cosa deve fare qualunque eventender di questo mondo recupera i dati dall'interfaccia dalla vista verifica la validità dei dati poi chiede al model di effettuare l'operazione in questo caso l'inserimento in generale l'operazione che devo fare e poi aggiorna la vista con il risultato dell'operazione l'aggiornamento automatico della vista dal modello questo è nel caso semplice questi passi ci sono sempre il caso si può complicare nel caso in cui il controller abbia vari stati che ne so un gioco indovinare il numero il gioco allora io ho la partita iniziata la partita in corso la partita finita allora alcune azioni saranno possibili o no a seconda dello stato in cui si trova la partita lo stato dell'interfaccia è qualcosa che si deve gestire il controller e magari risponderà in modo diverso la validità dei dati oppure le operazioni effettuate cambieranno a seconda dello stato dell'interfaccia in questo caso non ha uno stato particolare l'interfaccia ha un stato unico quindi qualunque azione è possibile sempre però ci sono casi in cui ci sono dei controlli in più da fare nel controller parto da questa riga chiede al model di effettuare l'operazione perché poi è il cuore tutto il resto serve di preparazione per fare arrivare i dati e di analisi dei risultati dell'operazione il model come fa a essere noto al controller come può il controller conoscere il modello ci sono due modi uno sbagliato il modo sbagliato è quello di creare il modello qua tanto voi mi dite il modello ha un costruttore vuoto non ha bisogno di parametri così come il main crea la vista la vista attraverso la fxml loader crea automaticamente il controller ma il controller si crea il modello che abbiamo risolto il problema no perché no nei nostri casi non ce ne accorgiamo quasi però se immaginiamo le applicazioni più complesse dove ci siano tante videate diverse e non sarebbe male che la videata in cui fare la ricerca fosse distinta rispetto a quella che inserisci per non avere questa ambiguità su due bottoni avremo tante viste diverse tanti fxml diversi ciascuna vista avrà il suo controller e però tutti i vari controller delle varie viste devono lavorare tutti con lo stesso modello con i stessi dati se non è che quando faccio inserisci si apre un'altra finestra in cui devo inserire i dati quei dati lì vanno a finire in un elenco diverso rispetto a quello in cui faccio la ricerca il modello è unico di tutta l'applicazione quindi da questo punto di vista non ha senso che sia il controllore a creare il modello la forma breve del perché è perché possono essersi tanti controllori e il modello deve essere uno solo quindi il modello non lo può creare il controllore lo deve conoscere il controllore ma qualcun altro lo crea e poi gli dice toh lavora con questo modello tra l'altro permette anche altre cose il fatto che il modello sia creato al di fuori del controllore cioè se io testo un modello diverso e più efficiente posso usare lo stesso controllore semplicemente quando chiamo il controllore gli dico lavora con questo modello nuovo che sto provando vediamo se funziona meglio o peggio e non devo toccare nient'altro quindi è meglio che il controllore non conosca lui qual è la classe modello e non se la crei lui ma gli venga ma venga informato su quale classe modello deve usare ragionamenti in prospettiva adesso non cambierebbe nulla per questo esercizio ma cominciamo a fare le cose giuste allora ovviamente il controllore dovrà avere un riferimento alla classe model perché deve chiamarsi i metodi semplicemente questo riferimento è un riferimento non si crea lui l'oggetto ma se lo fa passare da qualcun altro quindi questo oggetto model semplicemente dovrà avere un piccolo semplice setter di model cioè voglio che qualcuno dall'esterno possa dire al controller lavora con questo modello questo è il model su cui devi lavorare mettiamolo in fondo quindi la classe controller conosce il modello deve perché se no potrebbe lavorare con i dati lo conosce perché qualcuno gli ha detto qual è il modello con cui deve lavorare chi sarà questo qualcuno il main quindi nel mio main dove ho creato la vista e dentro la vista ho creato il controller creo anche il modello e poi dico al controller questo è il modello che ti serve così come test model che era un main si creava lui il modello e poi ci faceva cose anche il mio main vero creerà lui il modello e poi darà al controller il controllo di questo modello allora io qui sono di nuovo nel main quindi e qui ho creato la vista posso creare il controller facciamo così fatemelo separare così possiamo creare il modello ovviamente model va preso il package che abbiamo appena fatto e poi dovrò semplicemente scrivere controller punto set model di model giusto dopo di chi uno dice ma controller chi è? da dove arriva sta classe controller? non posso del main creare io il controller non posso fare controller uguale new di come si chiama questa classe libretto controller perché il new è già stato fatto da fsml loader quindi se voglio sapere qual è la classe controller me lo devo far dire da questo perché lui è chi l'ha creato ok ma lui come fa a dirmelo che l'unica cosa che mi restituisce è un elemento root allora devo semplicemente spezzare questa riga la riga 16 che adesso è la 16 che faceva tutto lei la devo spezzare in due e avere l'oggetto fxml loader esplicito perché questo qua come vedete è il metodo fxml loader punto load è un metodo statico che chiama il metodo senza creare un oggetto e quindi vuol dire che l'fxml loader dopo che l'ha creato si dimentica di tutto perché non esiste l'oggetto fxml loader io invece voglio creare un oggetto esplicito allora due righe fxml loader loader creo io un oggetto anziché usare il metodo statico e lo inizializzo nello stesso modo cioè gli spasso esattamente il stesso parametro quindi a differenza cosa ho fatto ho definito un loader di tipo fxml loader creandomi l'oggetto questo oggetto loader adesso ha un metodo load questo oggetto fxml loader di cui prima avevamo chiamato un metodo statico adesso non stiamo più chiamando un metodo statico abbiamo creato un oggetto esplicito e su questo oggetto abbiamo chiamato stiamo chiamando un metodo normale load che restituisce ovviamente la stessa cosa di prima quindi con questa modifica cosa abbiamo ottenuto per ora nulla di nuovo semplicemente anziché chiamare un metodo statico per far tutto abbiamo creato un oggetto e poi abbiamo chiamato un metodo vero sull'oggetto il metodo statico non era che una scorciatoia per fare questo ma abbiamo adesso l'oggetto loader che è l'oggetto che ha appena caricato l'fxml allora magari lui lo conosce il controller perché l'ha creato e infatti vedete che l'oggetto loader ha un metodo get controller qua che ritorna il controllore associato con l'oggetto radice quindi adesso so a chi chiedere qual è la classe qual è l'oggetto di tipo controller lo chiedo al loader quindi questo mi istituisce controller io me lo posso memorizzare in un riferimento libretto controller controller uguale così quindi i passi sono creo l'oggetto loader chiedo all'oggetto loader carica la vista punto load il caricare la vista automaticamente gli fa anche fare una new creare il controller distanziare il controller e poi mi faccio dare il riferimento all'istanza del controller che lui ha creato io main adesso conosco il controller e a questo controller posso dire set model su quale modello deve lavorare ogni volta dovremo fare questa operazione qua perché ma perché il template di main che salta fuori non è pensato per avere un modello separato e dobbiamo farsi due modifiche per poter farsi il model ok abbiamo aggiornato il main adesso possiamo tuffarci nel controller quindi tutta questa parentesi dentro il main ricapuliamo cosa ci serve ci serve per poter avere un riferimento al model con cui i metodi devono lavorare adesso è facile recupera i dati dalla vista ricordiamoci adesso siamo dentro il bottone inserisci inserisci che coro un corso che ha fatto dei trapezzi il codice che me lo dà il testo contenuto nella casella di testo text codice il titolo che lo recupero dalla casella di testo titolo e infine il docente text test quindi qui prendo fedelmente ciò che l'utente ha scritto nelle tre caselline di testo una casella di testo per come implementato in java fx non è mai null cioè il get text non è mai null al massimo stringa vuota se l'utente non c'è scritto nulla quindi non devo normalmente quando estraggo un dato dall'utente devo fare tutta una serie di controlli perché non so mai se questo dato sarà sano oppure no in questo caso sono sicuro che non è null però vado a vedere se c'è scritto qualche cosa quindi non serve andare a controllare if codice uguale uguale nulla allora la validità dei dati qual deve essere devo avere un criterio per dire se ciò che è scritto l'utente è accettabile oppure no il criterio potrebbe essere magari il codice deve essere almeno lungo 5 caratteri o 5 o 7 da noi mettiamo un valore minimo di 5 quindi se a questo punto sono stringhe queste quindi se la lunghezza è minore di 5 oppure il titolo non c'è non equals length uguale 0 oppure il non codice docente punto length uguale 0 beh allora i dati non sono validi quindi se il codice è troppo corto o il titolo mancante il titolo potrebbe anche essere di due lettere per assurdo non lo sappiamo il corso che si chiama A il docente anche qui ovviamente se sapessimo di più sui dati potremmo mettere dei controlli più furbi allora però cosa facciamo se qualcosa non va lo diciamo all'utente e ci rifiutiamo di andare avanti lo diciamo text message append text abbiamo la finestra di messaggi apposta per poter inserire questi messaggi e posso dire dati esame insufficienti o qualcosa del genere poi se avessimo più tempo e voglia potremmo distinguere scrivere codice troppo breve docente mancante titolo mancante eccetera eccetera ovviamente l'utente è contento se ha dei messaggi d'errore più dettagliati e poi mi fermo cioè non devo andare avanti perché a questo punto ho capito che non posso andare avanti perché mi mancano i dati e ritorno dall'handle vuol dire che semplicemente non faccio più niente ho scritto un messaggio d'errore e poi basta non provo a chiedere al modello di effettuare un'operazione quindi ho una serie di controlli di verifica che fanno sì che il controller capisca se è il caso di effettuare l'operazione sulla base dei dati che ha a disposizione poi a un certo punto facciamo l'operazione dentro il model quindi sarà semplicemente che devo creare un nuovo oggetto esame passandogli codice titolo e docente e dire al modello punto ad esame ti è questo devo importarlo dal model e io so che però l'add esame può andare a buon fine oppure no quindi vado a leggere anche il risultato dell'operazione a questo punto io so se l'operazione è andata a buon fine o no quindi l'operazione è stata eseguita oppure non eseguita non lo so lo sa il model e ce l'ha detto io li vedo i controller mi fido di ciò che mi dice il model e informo l'utente e se il risultato è a posto posso dire aggiungendo una riga al testo esame aggiunto correttamente altrimenti metterò un messaggio un pochino più preoccupante esame non aggiunto lo so io perché perché il codice è duplicato recupero i dati valido i dati eseguo l'operazione delegando al model e poi sulla base dell'esito dell'operazione aggiorno l'interfaccia utente vediamo se funziona allora io se provo a inserire qua mi dirà che i dati sono insufficienti quindi non me lascia fare se io inserisco il codice 0 3 f y z tecniche di programmazione inserisci esame aggiunto correttamente se provassi a reinserirlo senza cambiare nulla esame non aggiunto perché il codice è duplicato se io provassi a inserire un altro codice un altro corso me lo aggiungerebbe correttamente così via un po' la cieca ci fidiamo di ciò che si dice in realtà ci fidiamo di ciò che si dice e dei test che avevamo già fatto prima sul model quindi sappiamo cosa succede quando quando ritorna falso adesso dobbiamo solamente più implementare il cerca ok domande fin qua sì il main allora l'ultimo metodo cerca funziona nello stesso modo l'utente ha schiacciato cerca io devo estrarre dall'interfaccia i dati che mi servono in questo caso solamente il codice verificarlo ovviamente uso lo stesso criterio di prima non ha senso che un codice sia valido per inserirlo e non per la ricerca o viceversa io ho sempre un attimo di disagio tutte le volte che scrivo una linea di codice che è uguale a un'altra che c'è sotto o ci sarà un'altra parte perché mi viene suona sempre un campanello di warning che dice ma non si può fare meglio magari mettere una funzione a parte magari definisce a parte quali sono i criteri di accettazione dei dati eccetera quindi il copia e incolla o il riscrivi uguale per me fa sempre suonare un warning che mi fa pensare vabbè adesso lo scrivo ma quando poi funziona magari lo riorganizzo in modo migliore in modo che se decidessimo che poi il codice anziché da 5 deve essere lungo almeno 7 non devo andare a modificare 17 posti dove la difficoltà non è andare a modificare 17 posti è trovare tutti 17 e non dimenticarne uno da qualche parte quindi se invece sei in un posto solo il fatto che ci sia 5 qui e 5 lì mi fa male ecco ve lo confesso piuttosto lo metto in una costante ok ma adesso dobbiamo arrivare alla prima versione funzionante quindi queste cose mi faccio violenza e continuo se il codice è troppo piccolo allora non va bene quindi codice non valido se invece è valido passiamo al control al model vedete che lo schema che seguiamo è sempre lo stesso prendo i dati li valido passo al model esame e uguale model punto trova esame codice avevamo già il metodo trova esame pronto che mi restituisce che cosa? o l'oggetto esame o null e allora a seconda di che cosa mi ha restituito aggiorno l'interfaccia utente quindi if è uguale null non è che devo sgridare l'utente lo segnalo non è un'eccezione non è un errore grave è una cosa che può succedere quando faccio una ricerca lo dice il nome stesso posso trovare o no quindi se l'esame ritornato era null dirò all'utente esame non trovato codice non trovato se invece non è null siamo tutti più contenti e quindi dirò invece che il codice è stato trovato e come faccio a farti vedere i dati beh li vado a riempire le tre caselline quindi andrò ad aggiornare l'interfaccia con i valori del corso appena trovato e quindi andrò a mettere in txt codice il testo corrispondente all'esame trovato get codice txt titolo set text e punto get titolo e txt docente punto set text l'ho imposto col e punto get docente visto che l'ho trovato vado a compilare l'interfaccia utente con i valori che ho appena trovato qualcuno potrebbe dirmi ma il primo non serve a niente perché il codice ce l'avevi già può essere vero io lo rileggo comunque sia per competenza sia perché vuoi che il model magari i codici li converta tutti in maiuscolo per facilitare i confronti se per caso qualcuno l'avesse inserito in minuscolo e allora vado a mettere il codice quello vero quello che mi arriva dal model perché il model la sa più lunga dell'utente però la finezza fatto direi fatto nel senso che fa tutto il model il vantaggio il vantaggio di questo è che il controller deve solamente più preoccuparsi dell'estetica di mettere a posto le cose perché il lavoro è vero sui dati vi rendete conto che stiamo proprio ragionando in modi diversi in queste fasi le cose di cui ci preoccupiamo sono diverse ok proviamo a giocarci e qua viene di nuovo lo sconforto dove reinserire di nuovo a mano i dati che abbiamo appena inserito un attimo fa per prova e questo se noi avessimo solo tutto come stamattina alle 8 e mezza dormivamo ancora ma abbiamo iniziato dicendo è noioso dover testare l'applicazione ogni volta dell'interfaccia utente perché tutto il codice del controller ecco il codice del controller si può testare solamente interattivamente per fortuna il grosso del programma l'abbiamo messo fuori dal controller l'abbiamo potuto testare a parte senza dover inserire i dati a mano ma semplicemente lanciando un metodo di test ok allora abbiamo detto 0.3 f, y, z inserisci 0.1 q, z, p non so perché me lo ricordo a memoria qui mi faccio pubblicità l'aggiungo poi non so come si chiama 0.1 abc diciamo quello di io dai come si chiama il tuo corso reti di calcolatori dell'applicazione web qualcosa del genere ok a questo punto in strisci lo sapevamo già non funzionava possiamo provare a fare una ricerca mettiamo il codice di questo corso l'ho sbagliato 0.2 invece è a 0.3 adesso l'ho trovato e me l'ha messo quindi da quei due test che abbiamo fatto direi che questa parte di applicazione è completa e funzionante non è molto user friendly con questa cosa qua che ci mette il testo sopra ma su questo possiamo lavorare per fare user friendly dovremmo lavorare sicuramente sulla vista e magari anche sul funzionamento del controller ma la parte difficile che è il modello i dati eccetera invece sono separati perché già funzionano fanno già tutto ciò che devono fare quindi cosa ci portiamo a casa da oggi in avanti lavoriamo sempre così modello separato del controller i dati in mano al modello il modello che cerca di garantire la coerenza dei dati usa degli oggetti java progettati bene con tutti i metodi che servono con tutti i criteri che servono il main fa questa operazione di creare il controller e vista il modello separatamente e metterli in contatto che è l'unica parte un po' noiosa quindi non voglio più vedere dentro il controller creare liste creare strutture dati creare cose perché non è quello il posto giusto e su tutti i dati si creano dentro il modello per il vostro bene oggi direi che è stata lunga ma abbiamo finito grazie a tutti i dati